Siamo qua con Claudio, partita a senso unico, sono disfatti di questa vittoria? Sì, la partita l'abbiamo giocata bene, non abbiamo concesso neanche un gol agli avversari, era quello che ci interessava di più vincere la partita. Secondo te quali sono i difetti e le qualità della tua squadra? I difetti? Difensivamente subiamo troppi gol da calcio da fermo, anche se oggi non è successo e rischiamo troppo da quel punto di vista difensivo. Invece in attacco oggi è andata bene, perché comunque con poche occasioni create abbiamo fatto tre gol e abbiamo portato a casa la partita. Gli obiettivi per quest'anno quali sono? Gli obiettivi per quest'anno sono sempre gli stessi, prima salvarsi, poi se si riesce a essere più in alto, anche se abbiamo perso due partite nelle ultime tre, siamo un pochino compromessi per andare davanti, però non si sa mai, sognare non costa niente. Grazie mille, grazie a voi.